ciao amici sono lox bentornati sui fatti di opinione di lox il canale per i veri malati di sport stamattina angolo serie c il posticipo di ieri sera girone b la sfida tra il modena e il pescara gara molto appassionante e divertente io credo anche di un livello superiore a quella che è la serie c per me è stato anche un incontro di serie b giocato bene da entrambe le formazioni mi è piaciuto di più pescara naturalmente all'intormodera 1 a 0 con una rete ottenuta letteralmente all'ultima azione in conclusione dei quattro minuti di recupero concesso dall'arbitro collo come detto mi è piaciuto di più pescara soprattutto nel corso di un primo tempo nella quale la formazione di auteri ha dimostrato grande personalità ha controllato di più il gioco ha avuto un'occasione clamorosa della quale parleremo e ha messo molto in difficoltà un modena al contrario apparso un po lento apparso anche un po lezioso in avanti un po in difficoltà nel secondo tempo inizio di partire inizio di te nel inizio secondo 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 tempo incontro più in equilibrio modena che mano a mano ha alzato il proprio baricentro poi un altro dei momenti chiavi le sostituzioni che hanno permesso al modena di migliorare molto la propria proposizione soprattutto da un punto di vista offensivo buoni cambi del modena meno buoni i cambi del pescara proprio un gap molto evidente nei due momenti e modena che è salito mano a mano di tono ma sorrentino in realtà non ha dovuto mai compiere nessun intervento fino poi all'espulsione di drudi per doppio cartellino giallo e poi la rete vittoria di magnino come dicevamo nel recupero a mio avviso la partita gira attorno a quattro momenti fondamentali il primo è come dicevamo un rigore totale negato al pescara eravamo attorno al decimo minuto un fallo nettissimo di piacentini in area su cernigoi incredibilmente l'arbitro collu decide di lasciare proseguire ora è vero che l'arbitro collu in generale anche poi nel corso della partita ha lasciato correre parecchi interventi ha usato un metodo di arbitraggio neanche così negativo però e sono d'accordo anche lo diciamo sempre sul mio canale lo dico sempre il rigore è una cosa seria vedo dei rigori in serie b alle volte allucinanti come quelli per esempio concessi al monza in più di un'occasione però ragazzi se non è calcio di rigore questo quando mai deve essere calcio di rigore l'intervento di piacentini è completamente in ritardo prende il piede di ingrosso di scusate di cernigoi è nettamente un calcio di rigore collu non lo concede il pescara si arrabbia molto però purtroppo è un errore arbitrale credo abbastanza evidente come detto poi molto meglio il pescara però arriviamo poi al secondo tempo i cambi i cambi il modena inserisce mosti magnino e minesso tutti saranno decisivi tutti giocheranno molto bene tutti faranno assolutamente il proprio dovere roma torna sessantesimo e migliorano molto come dicevamo soprattutto la parte offensiva del modena viceversa invece il pescara toglie pontissimo e cernigoi a mio avviso due di migliori in campo cernigoi soprattutto stava facendo un grande lavoro stava mettendo molto in difficoltà la difesa del modena e pontissimo stava facendo un buon lavoro dietro sul centrocampo per cui a mio avviso i due cambi hanno creato molto gap pescara si è indebolito il modena si è rafforzato e si è visto comunque poi nello sviluppo del gioco terzo momento chiave come dicevamo il secondo cartellino già della conseguenza espulsione che ha colpito drudi primo cartellino nel primo tempo giustissimo per un fallo su ognuseie ognuseie corretto anche il secondo manino lo anticipa fallo corretto il secondo giallo corretta l'espulsione è incredibile che un giocatore delle esperienze di drudi caschi in un errore di questo genere capitano già munito un intervento veramente al limite un momento chiave perché pescara poi è rimasto in dieci nel finale di partita il gol di vittoria di minesso però bisogna dire una cosa prima sul gol ci sono un po di prima cosa nei tempi secondo me sì perché comunque per quanto gli arbitri facciano alle volte un po di confusione col tempo di recupero però il modena si è conquistato l'ultima rimessa laterale prima del 94 esimo del minuto 94 quindi credo che l'azione ci stia fuori gioco non penso perché c'è un'azione che parte dalla sinistra e il giocatore del pescara in alto che contrastava credo fosse azzi a fare la giocata sulla sinistra credo tenesse in gioco minesso per cui la rete credo sia sostanzialmente valida però il pescara ha fatto anche un errore abbastanza clamoroso perché a un minuto dalla fine ha ottenuto un calcio di punizione sulla tre quarti sulla propria tre quarti invece di tenere la palla mancava un minuto alla fine ormai passarla all'indietro far qualcosa ha preferito buttarla in avanti palla subito persa concedendo al modena quest'ultima occasione un pochino di ingenuità da questo punto di vista quindi direi i punti chiave della gara sono stati questi il successo del modena fine squadra forte squadra convinta squadra in missione ventunesimo risultato utile consecutivo ora in testa con più 5 sulla reggiana è una gran squadra da serie b questo ci mancherebbe altro oggi però il pescara ha dimostrato di essere una squadra che nei playoff potrà fare sicuramente molto bene andiamo con le pagelle per quanto riguarda il modena 6 e mezzo al portiere gagno 6 a ciofani 5 e mezzo a piacentini perché il faro da rigore lo ha commesso per quanto è migliorato poi nella ripresa per graffi 6 e mezzo azzi 6 e mezzo 5 e mezzo a scarselle a gerli 6 armellino 5 e mezzo a tremolada 6 e mezzo a giovanini il più vivo davanti 5 e mezzo ogni 6 e 7 a mosti a manino a minesso tutti decisivi per quello che riguarda il pescara 6 a sorrentino 6 a zappella 6 e mezzo a incrosso 5 a drudi troppo grave l'espulsione 6 a veroli 6 e mezzo di risio 7 a pompetti io sono innamorato di questo giocatore 6 e mezzo a clemenza 6 e mezzo a pontisso molto bene 6 a rauti e 6 e mezzo a sernigoi dei subentrati mi è piaciuto un po il solo un zitta ma non fino in fondo pescara quinto con 47 punti ripeto credo che nei playoff sarà una squadra da tenere d'occhio 4 e mezzo all'arbitro collu fatemi sapere le vostre opinioni su come è andata questa gara con la serie c ci sentiamo settimana prossima oggi appuntamento con la serie b grazie a tutti un bacio e ciao da lox